nuovo appuntamento con cardano cecilia non vi abbiamo mai presentato questo nuovo prodotto è la punciatrice è una macchina pensate che vi permette di ricamare senza filo guardiamo la scheda questa macchina punciatrice crea effetti fantastici non necessita di infilatura tutto ciò di cui hai bisogno sono scarti di tessuti filati lana feltri jeans seta ogni materiale crea un risultato diverso basta porre uno o più materiali sulla stoffa e la macchina con i suoi cinque aghi li fisserà attraverso il tessuto creando risultati sorprendenti potrai creare fantastici volanti oppure ottenere stupende decorazioni lasciati travolgere dal puro divertimento sprigionando la tua creatività lasciati travolgere dal puro divertimento sprigionando la tua creatività avete visto quante belle cose questa macchina è davvero incredibile è veramente eccezionale la per maggiori informazioni potete venire a trovarci a galliate in via novara 111 oppure potete telefonare allo 0321 861398 vi aspettiamo per darvi maggiori dettagli e poi ricordatevi che cardano cecilia non è solo un nome ma è una garanzia per tutta una vita arrivederci al prossimo appuntamento grazie 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 grazie